Benvenuti nel nostro canale. Cari amici, in questo momento straordinario in cui ci riuniamo per condividere il messaggio della Madonna di Meggiugorie, è importante riflettere su quanto la preghiera incida ora nelle nostre vite e per il mondo intero. I messaggi della Madonna di Meggiugorie sono stati e sono fonte di ispirazione e conforto e questo messaggio è destinato a influenzare positivamente la vita di tutti noi. Siamo grati di avere l'opportunità di condividere questo momento speciale con voi e speriamo che questo video vi aiuti a trovare pace, ispirazione e amore. Prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale e di condividere questo importante messaggio. Cari figli, i venti del male, dell'odio e dell'inquietudine soffiano sulla terra per distruggere le vite. Perciò l'Altissimo mi ha inviato a voi per guidarvi verso la via della pace e della comunione con Dio e con gli uomini. Voi figlioli siete le mie mani estese, pregate, digiunate e offrite sacrifici per la pace, tesoro al quale anela ogni cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie.